Musica Onlycraps, bici suanti ragazzi, sono Bezza Bossa e sono tornato con il vero ottavo episodio di Mezza Focamon Vega in inglese. Allora devo dirvi una cosa ragazzi, io questo episodio avevo già provato a registrarlo, ma la palestra mi ha fatto il culo un'altra volta. La terza palestra mi ha fatto il culo. Allora siccome mi seccava di nuovo avere un episodio tra virgolette inutile dove purtroppo sono stato sconfitto dalla palestra, che tra parentesi vi ricordate che la palestra ha quattro Pokémon, beh due ero riuscito a sconfiggerli, ovvero gli unici due che mi ricordavo che avessero. No? Cosa sto dicendo? Uno sì, era quello che mi ricordavo, ovvero starmi, e l'altro invece non mi ricordavo che lo avesse. Poi vi mostro chi è, tranquilli. Per cui avevo allenato la mia squadra ragazzi, l'avevo allenata e l'avevo mandata verso il, diciamo, il livello 28-30. Però dopo aver perso, essere stato sconfitto, ecco perché mi stavo bloccando, perché stavo facendo un miscuglio di parole, dopo essere stato sconfitto ho deciso di allenare la squadra di altri quattro livelli. Che tra parentesi vuol dire una cosa ragazzi, io adesso ho praticamente dodici Pokémon tra cui devo sceglierne sei per la mia squadra. Allora, per la palestra io ho scelto questi sei, solo per la palestra ragazzi. Mentre qui ci sono altri sei Pokémon tra cui devo scegliere i membri effettivi. Cominciamo ad allenarne uno per uno, partendo da Strona, che è l'evoluzione di Jambery. Si è evoluta al 25, parlo al femminile perché è una femmina. Come statistica ragazzi abbiamo un ottimo attacco speciale, una buonissima velocità e un'elevata vita. Vi ricordo che l'abilità è appunto Clorofilla, che ha sempre a che fare con la sua alta velocità. E come membro di tipo Erba sarà il membro effettivo per un bel po' di tempo ragazzi, anzi più che altro si spera per quasi tutta la serie, se non tutta. Ma se abbiamo Mega Sorumento, Schianto, Sintesi e Vortice Erba. Poi abbiamo, e gli ho dato, le ho dato il Miracle Seme che aveva già ovviamente. Poi abbiamo Hydrush a livello 34, si evolve al 36, ho già guardato con le Carmele Rare, però mi sono già dimenticato il nome della sua evoluzione. Tranquilli. Statistiche ottime, abbiamo la vita che ha superato il 100, arrivando a 107. Un buon attacco speciale, per il resto tutte statistiche nella somma, nel complesso buone. Mosse ha imparato, scusate, idroampata, al posto di Mulinello. Poi abbiamo la Sprit, che ho mandato al 32, traccia come abilità, una buona vita e un buonissimo attacco speciale e una buona rifaia speciale. Mosse abbiamo le stesse, anzi in realtà abbiamo Doppia Sberla, che gli ho sentito al posto di Botta, se non mi sbaglio. Doppia Sberla è quasi sempre migliore di Botta, perché due Sberle le fa sicure e arriva a 30 di potenza contro 40. Ma può farne 3, 4, addirittura 5, superando Botta. Poi abbiamo Life Drain, che sarebbe la controparte speciale di questa Chrome di Falsofinale. Life Drain, tradotto letteralmente, sarebbe Risucchio Vitale, ma d'ora in poi le mosse di questa Chrome le leggerò sempre in inglese, ragazzi. Allora, Life Drain è una mossa speciale, che fa 60 di potenza, stabata va a 90. Lascia sempre il nemico con almeno un punto ferita, un punto, un PV, diciamo, un punto, un PS, ecco, un PS. Potete vedere che ha gli stessi punti potenza di Falsofinale, quindi è proprio la sua controparte speciale. Purtroppo non sciolterà mai. Confusione, ipnosi. Poi abbiamo Machu. Allora, ragazzi, Picchu si evolve in Pikachu per felicità. E anche Picchu in Machu si evolve per felicità. Quindi cosa vuol dire? E tra l'altro si sente il rumore dei cavi USB. Vuol dire, ragazzi, che se voi fate raggiungere la giusta felicità a Picchu, un livello dopo l'altro si evolverà prima in Picchu e poi in Machu. A me si è evoluto al livello 27 in Picchu, se non ricordo male. Al 27. Ma vi do un consiglio, ragazzi, bloccategli l'evoluzione perché, adesso non mi ricordo, ma intorno al 27, 28, 29 da Picchu impara Fulmine. Che di per sé è inutile perché vedete che non ha un cazzo di attacco speciale Machu. Però fidatevi che vi può essere utile perché per il momento di mosse siamo un po' messi male. Per cui, ragazzi, adesso non mi ricordo a che lo sia evoluto. Penso intorno al 27, 28, 29. Picchu in Picchu. Ma da Picchu allenatelo fino a che non impara Fulmine e bloccategli l'evoluzione. Poi, a livello dopo, potete benissimo farlo evolvere anche perché da Machu, a livello dopo, impara anche Bullet Punch, ovvero Pugno Scarica. Quindi ricordatevi che a livello da Picchu che impara Fulmine, a livello dopo, per felicità, è evoluto in Machu, impara Bullet Punch. Che purtroppo non mi ricordo quali sono. Quali sono i due livelli. Comunque abbiamo Tuono Shock, Fulmine, Pugno Scarica, Euro Bullet Punch e Tuono Onda. E ovviamente Machu, che tra l'altro, ragazzi, è una cosa. Intanto Machu si caratterizza di un ottimo attacco, ragazzi. La sua statistica più alta, 130-135 di attacco fisico base, tantissimo. Un'elevata, molto elevata vita, una buona velocità e anche una buona difesa. Però, ragazzi, volevo dire una cosa. Machu è il Pokémon che più mi fa schifo di Pokémon Vega. Io penso che sia il Pokémon più sbagliato di Pokémon Vega. Perché è la fusione tra un Machu che un Pikachu. Machu. Io penso che sia il Pokémon più... è un aborto per me. Io lo odio Machu, veramente. Che tra l'altro, se avete notato, quando feci il primo episodio di Pokémon Vega in giapponese, io la intro in cui si vede Machu, la saltai. Perché temevo che coloro che guardassero per la prima volta quell'episodio, vedendo un Pokémon così brutto, ne fossero in qualche modo allontanati. Nel senso, non gli piacessero e quindi si allontanassero dal primo episodio di Pokémon Vega. È per questo che io non l'ho fatto vedere la intro, ma l'ho fatta vedere su Pokémon Vega in inglese. Perché ormai la conoscete benissimo, appunto, la cron di Pokémon Vega. Ma sta di fatto che Machu è palesemente una fusione tra due Pokémon. Quando su Vega ci sono Pokémon nuovi, veramente nuovi, infatti da zero. Allora, perché mi metti una fusione tra due Pokémon? Tra l'altro è venuta male, veramente è venuta male. Io non riesco a guardarlo, veramente mi fa schifo, mi fa ribrezzo. Potrà essere quanto buono volete, un tipo fuoco e un tipo elettrolotta che non esiste, a parte Pikachu in cosplay, ma è un no-brobrio, un aborto, ragazzi, veramente. E poi abbiamo Picoptic, perché un altro tipo psico mi servirà in questa palestra, ragazzi. Che ho mandato al 34. Statisticamente siamo molto, molto nella norma, molto nella media, con una buona vita, un buon attacco speciale, di natura calma, ok. Un basso attacco, cioè insomma l'attacco dovrebbe essere più alto, perché ha sempre una mossa fisica, ovvero beccata. Però si specializza più nelle mosse speciali, quindi va benissimo così. Una buona vita speciale per merito della natura e un'ottima velocità, che è la sua statistica più alta, non so parlare. Infatti le mosse sono beccata che è l'unica fisica. Poi abbiamo Baraonda, Confusione e Hypnopulse, tutte quante speciali. Poi ho saltato qualcuno. Ah sì, poi c'è Psycolt. Tra l'altro ragazzi, vi devo dire anche un'altra cosa ragazzi. Siccome io avevo già registrato in questo episodio che ho perso contro la palestra, avevo anche sconfitto degli allenatori, ovvero quelli che c'erano prima, della città di Gamboge, la Gamboge City, ovvero quelli a destra. Siccome non li batterò in questo episodio, ma vi mostrerò solo chi ho battuto, faccio le premesse della squadra un po' più lunghe, tanto non le farò più per un bel po' di episodi, state tranquilli. Ho catturato uno Psycolt così tanto per ragazzi, perché vi ricordo che lui si evolve, se non mi ricordo male, con la pietra lunare, nel cavallo Psicovolante. No, era Psicovolante. Sì, Psicovolante, che è speciale, ha tipo 109 di attacco speciale base, mentre con la pietra solare si evolve in quello fisico, che è di tipo Psicoacciaio, che dovrebbe avere sul 104 di attacco fisico base. Per il momento questo Psycolt si sta caratterizzando di un attacco fisico, diciamo, in quanto ha una buona vita, una buona velocità, un buon attacco speciale, e un attacco ancora maggiore, ragazzi. Le mosse infatti sono, diciamo, più speciali che fisiche, in quanto ha incornata, ripresa, Psicoraggio e Hypnopulse. Per il momento lo tengo ancora, anche perché vi ripeto che tipo Psico nella prossima palestra mi serviranno, ragazzi, perché vi ricordo che c'è un Pokémon in particolare. Ovvero, gli unici due Pokémon che mi ricordavo che avessero la palestra erano Starmy e l'evoluzione della Lontra, diciamo, quella Acqualotta, che, tra parentesi, non mi ricordo già più il nome, per dire l'evoluzione di Cowappa, che è quella prima, ed è di tipo Acqualotta, appunto. E sì, ho parlato di Psycolt, ora passiamo ai Pokémon del box. Ci sto mettendo una vita, ragazzi, perdonatemi, ma dovevo farlo. Allora abbiamo Belvelt, vi ricordo che si è volto al 35, di natura Relaxed, che non mi ricordo la traduzione. Allora, ha un'elevatissima vita, veramente. E ricordo che l'altra abilità, oltre potenza e fuoco dentro. Poi abbiamo Statistiche tra la difesa e la velocità, tutto sommato discrete. Mi ricordavo una velocità più alta, forse con l'evoluzione diventa ancora più alta, appunto. E un buon attacco, ragazzi, un buon attacco. Mosse abbiamo Dream Punch, appena imparato, ovvero solo il pugno. Ferratigli, Danza Spada e Fossa. Poi abbiamo Hornicle. Vi avevo già mostrato che si era evoluto, vero? Si evolve al 18, da Cupricorn in Hornicle. Allora, testa dura con verità, una buona vita, una buona vita, un ottimo attacco e un'ottima difesa, ragazzi. E una velocità abbastanza discreta. Mosse abbiamo Stomp, imparato da poco, ovvero Pestone, che fa tentennare. Finta, Incornata e Morso, un'altra mossa che fa tentennare. Ricordo che l'ultima evoluzione, si evolve al 32, se non ricordo male, acquisisce il tipo Buio, quindi Finta e Morso saranno stabate. Poi abbiamo Rotillo, o Rotillo, io lo chiamo Rotillo perché suona meglio, che si caratterizza di una buona vita, di un buonissimo attacco, di una buonissima difesa e di una buona difesa speciale, di un attacco speciale alto ma inutile e di una molto stranamente alta velocità, perché ricordo che lui ha un typing di base lento, ovvero Roccia Acciaio di solito è lento. Comunque, vedete ragazzi, le sue statistiche sono tutto sommato molto molto buone, velocità, vita, attacco e difesa e anche difesa speciale. Le mosse sono appunto azione, Rotolamento, Sanguisuga e Frana, che ha imparato da poco tra l'altro, il che lo rende un Pokémon davvero buono. Poi abbiamo Rhinos, mandato al 30, ricordo che lui si va al 40, il quale ha una elevata vita, una buonina difesa speciale, un buon attacco per merito della natura e una buona difesa normale, difesa più che altro. Le mosse sono incornata Sonic Sand, ovvero sabbia sonica, sabbia veloce diciamo, che adesso leggo una cosa, Fast Moving Sand, ho il dubbio che sia una mossa con priorità più, lo sapete? sta di fatto che ha una mossa speciale e verrà cancellata il più presto possibile dal mio Rhinos. Comunque fa 80 di potenza e può anche sharply lower allora si può può diminuire di molto la difesa speciale del nemico e una mossa speciale fa quindi 120 di potenza stabata poi abbiamo corpo scontro e fossa poi abbiamo Aurostis allora ragazzi io vi devo dare un consiglio che mi aveva dato Azer ma che purtroppo quando me l'ha detto siccome io ho la memoria di un Bradipo in letargo me lo sono già scordato Aurostis cioè Maidon si evolve in Aurostis a loro 30 ma quando si evolverà bloccatele l'evoluzione dico bloccatele perché la mia è femmina bloccate l'evoluzione fino a che da Maidon imparerà Geloraggio io purtroppo questa cosa la sono dimenticata e adesso mi trovo con un palo nel culo tra l'altro voglio fare un come si può dire un un come si può dire un vorrei farci caso al bellissimo nome Aurostis io veramente lo adoro vi ricordo che il nome giapponese della Gardevoir di Ghiaccio tradotto letteralmente era Furoria un altro nome bellissimo ma anche Aurostis è veramente stupendo quindi ragazzi bloccate l'evoluzione di Maidon fino a che impara a Geloraggio potete farla evolvere comunque Aurostis la conoscete molto bene ha un'elevata vita un'elevatissimo attacco speciale un'elevata velocità la natura era Lux che purtroppo non mi ricordo tra l'altro gli ho dato anche il Gelomai ovvero il Never Meltice e abbiamo una difesa stranamente più alta dell'effetto speciale forse la natura ragazzi sapete sì perché di base mi ricordo che la difesa speciale era più alta della difesa normale e poi abbiamo come mosse Pound Icy Kissi ovvero bacio ghiacciato non vi ricordo se avevo già mostrato questa mossa ed è una mossa fisica ragazzi che quindi verrà cancellata al più presto fa 60 di potenza precisione non infinita fisica un bacio ghiacciato scusate che può sia diminuire la difesa del nemico e anche congelare tra parentesi una volta mi sono successi entrambi gli effetti successi entrambi gli effetti poi abbiamo un po' il neve e vento gelato ok chi manca manca Will Lisp e basta allora Will Lisp vi ricordo che si evolve con la pietra focaia l'evitazione con abilità è la migliore a differenza di fuocardore un'elevata vita e statistiche tutto sommato basse perché da Will Lisp la basse è dall'evoluzione finale che si alzano un pochettino vi ricordo tra l'altro che Will Lisp e la sua evoluzione si caratterizzano di un'elevata difesa speciale più alta dell'attaco speciale infatti vedete che l'attaco speciale è solo 51 la difesa speciale è leggermente di più però 58 le mosse ammontano ad essere bracciere finta storriaggio e turbo fuoco bene ragazzi allora ora vi mostro chi ho sconfitto off camera cioè non off camera registrando l'episodio che poi ho dovuto cancellare allora ho sconfitto lei poi qui ho trovato uno strumento che adesso purtroppo non mi ricordo qual era vedo se riesco a farci caso era mi sa l'elisir o il super repellente non mi ricordo quali dei due poi ho sconfitto lui ho sconfitto lei e ho sconfitto lui loro due le avevo già sconfitte era una delle due si chiamava Iris poi sono andato qui sopra e ho sconfitto lui lei ho constatato che mi serve spaccaroccia anzi mi sono ricordato che serve spaccaroccia per andare avanti ho guardato se c'erano strumenti in quelle due rocce non ce n'erano e nemmeno qua mi sa perfetto pokemon nuovi in questo percorso non ce ne sono e adesso ragazzi si può andare a battere la palestra si dovrei riuscire a farcela in più di 5 minuti diciamo vi ricordo che lo schema della palestra era molto semplice ragazzi ok faccio dei save state per ricordarmi che ho fatto le permessi ragazzi anzi li faccio tanti la palestra prima però gumball city pokemon gym leader broke as smooth as water bene ragazzi tu cosa avevi da dirmi ok tipo elettro e tipo erba ma qui tipo potevo tagliare no mai nella vita ok allora ragazzi cominciamo utilizzando appunto strona che con il suo attacco speciale elevatissimo ragazzi farà i culi e ragazzi se perdo anche questa volta a sto giro la carico così com'è perché non è possibile ragazzi e si ho fatto mi dispiace ragazzi che ho fatto la premessa così lunga della mia squadra lo so mi starete odiando per questo ma sapete benissimo che io voglio spulciare nei minimi particolari pokemon vega e quindi per farlo devo farvi vedere tutti i pokemon dettagliatamente ragazzi o almeno quelli di cui però farò uno schianto che magari non fallisse però no cosa era quella mi sembrava rapigiro ma non era rapigiro perché stava attaccando due volte boh allora non uso i pokemon selvatici magari al prossimo allenatore ovvero questo che è il penultimo prima della capopalestra eccolo qui ragazzi kawappa la sua evoluzione ce l'ha la capopalestra ma sapete che non uso neanche pokemon selvatici gli manca troppo ragazzi ah tra l'altro ragazzi dopo vi mostro una cosa ragazzi dopo vi mostro una cosa che mi ero dinticato di mostrarvi allora faccio dei save state perché non vorrei perderla questa lotta tra l'altro avevo tradotto il dialogo molto molto male allora piacere di conoscerti mio nome è brock avevo fatto la battuta e ridge dove l'hai lasciata le grandi battute su beautiful ho guadagnato il titolo della capopalestra di gambo city d'ora in poi le città le leggerò in perché non è bello dire città di gambo perché tipo pewter city si traduce in plumbeopoli quindi chissà come italiano leggerò in inglese la capopalestra di gambo city sei sorpreso di vedere che soltanto una ragazzina giovane è capopalestra oh non si mi è sorpreso molto interessante con quel tipo di attitudine mi sembra una persona interessante anche in battaglia diciamo comunque l'utilizzatrice di pokemon tipo acqua brook è pronta a cominciare e questa frase ragazzi vi giuro che non ho idea di come si traduca smoothness of water boh andrò a cercare cambia la traduzione e adesso mi sono ricordato che la capopalestra era quella d'archettona diciamo allora lei parte con starmi a livello 30 io mi trovavo con uno strow al 29 perché era umato al 28 appunto 4 livelli indietro ma con gli allenatori che avevo battuto era salita di un livellino allora faccio altri due save state allora con vorti cerva dovrei one shotarla però è più veloce di me allora io vi giuro ragazzi che durante l'altra lotta mi ha congelato subito non è possibile una cosa del genere ok io non so cosa dire ragazzi non so davvero cosa dire ora provo a giocarmela normalmente ragazzi giuro provo a giocarmela normalmente se la perdo la rifaccio da capo guarda te se fareci lift tornado porca di quella puttana ok porca di quella puttana troia no perché io porco mi incazzo adesso mi incazzo no non impari sanni ah per clorofilla e vabbè l'altro pokemon che ho ricordato avesse è hydrush lo starter al 28 faccio un altro lift tornado e ce lo togliamo dai piedi ma porca di una ecco l'evoluzione di capuondo acqua lotta molto forte ragazzi lift tornado non penso neanche basti e invece ok ah flohazel è l'ultimo fallisco ci sta che fallisco a me una che mossa era quella ah ma certo lo finisco con hydrush faccio solo un save state lo voglio finire con hydrush ok un altro fango ma mi addormenta sempre sta cazzo di mossa si addormentato e confuso pure ma che cazzo è non volevo lasciarlo voglio voglio che sia l'aspirit cioè non voglio che siano i membri non effettivi della mia squadra perché l'aspirit per il momento è molto effettivo quindi ora faccio ipnosi è di tipo buio questa mossa e vabbè mi tocca farla sconfiggere a coso e vabbè esperienza sprecata sei straordinariamente forte beh ecco tieni la medaglia fact boh non so cosa voglia dire ora che la medaglia fact la difesa di tutti i tuoi pokemon aumenterà e posso utilizzare surf fuori dalla battaglia 3000 poche dollari per favore prendi anche questo che era acqua bolt ovvero acqua shock è una vossa tipo acqua che può anche causare paralisi è molto conveniente allora perdonatemi ragazzi cioè a parte l'inizio me la sono giocata normalmente però dai no vabbè cioè io mi ricordavo vi ricordate l'episodio di questa palestra come lo intitolai questo gioco mi prende per il culo è vero ragazzi questo gioco mi prende per il culo no perché cazzo cioè mi sa che adesso stoppo il video si stoppo il video ragazzi adesso manderò machu e strona di un livello più alti perché hanno l'esperienza già cominciata si dai direi di farlo direi di farlo e poi metterò la squadra effettiva e andremo a fare anche la base del team nemico ovvero questa ovvero questa qui che poi tra l'altro ragazzi ecco la cosa che voglio mostrarvi la mostro nel prossimo episodio perché volevo fare due video oggi e devo fare in modo che la memoria me lo consenta quindi c'erano i prossimi episodi in cui vi mostrerò quella cosa che voglio mostrarvi più un'altra cosa che avevo fatto nell'episodio che non ho salvato ma che appunto ve li farò vedere per cui tranquilli ve la faccio vedere ragazzi vi faccio vedere tutto quanto al prossimo episodio ragazzi perdonatemi per il uso l'uso diciamo non proprio consono dei save state ma cioè dai prima fallisco e poi congelato sto gioco mi prende per il culo al prossimo episodio ragazzi ciao a tutti